Purtroppo le cariche elettrostatiche, cioè le SD, sono, chiamiamolo un male subdolo, perché non c'è un danno immediato, è difficilissimo che succeda un danno immediato da cariche elettrostatiche durante una lavorazione. Solitamente le cariche elettrostatiche creano un danno nel breve e lungo termine, quindi io ho manipolato una scheda elettronica, non mi sono accorto di aver scaricato elettrostaticamente una scarica sulla scheda elettronica, l'ho danneggiata e mi accorgo che questo danno solo dopo mesi, nell'arco dei primi sei mesi in cui l'apparato era in funzione. Una volta che l'apparato non funziona più, non si riesce, o si ha molte difficoltà, a ritroso a capire quello che è successo. Dopodiché, con vari test, si può stabilire se effettivamente, anzi di solito si riesce a stabilire se effettivamente una carica elettrostatica ha danneggiato il componente. Allora, ovviamente in tutto quello che riguarda il mondo dell'elettronica è indispensabile avere un'adeguata protezione SD che vada appunto dall'abbigliamento, ma all'ambiente, all'istruzione per gli operatori, a tutto quello che è materiale che è all'interno di un'area dove sia necessario avere protezione SD. Ma mi è capitato di allestire anche zone SD al di fuori del mondo dell'elettronica, mi è capitato di realizzare o fornire comunque materiali SD per gente che manipolava semplicemente materiali plastici, dove il distaccamento appunto dei due materiali creava cariche elettrostatiche e con un collante rischiamo di avere scintille e bruciare quindi quello che era il materiale che stavano toccando. Diciamo che ci sono tanti campi, il campo medico, il campo appunto dell'elettronica, poi a seconda della varia sensibilità di quello che si va a manipolare, può essere interessante avere protezioni più o meno indicate nello specifico. Allora, innanzitutto, ok, Italy è sul mercato e ha un'esperienza veramente storica nel mondo SD. Abbiamo prodotti molto particolari, molto esclusivi, prodotti che possono garantire in maniera costante il controllo di quelli che sono i processi appunto del mondo SD e cerchiamo, anzi, riusciamo a fornire qualsiasi tipologia di prodotto che vada appunto dall'allestimento del personale, quindi camici, magliette, abbigliamento specifico, a aree complete dove c'è la necessità di avere dall'apparimentazione agli strumenti, a tutti quelli che sono gli strumenti di controllo. Ci distinguiamo soprattutto per la grande esperienza che abbiamo tutti all'interno di Ok Italy e per avere una, per predeligere soprattutto il rapporto umano con i nostri clienti. Noi non siamo solo un'interfaccia al computer, cerchiamo di essere presenti dai clienti il più possibile, in modo da dare consigli, consigli tecnici, ovviamente consigli economici su quello che devono andare o non devono andare a spendere. Cerchiamo di ottimizzare e metterci a disposizione dei nostri clienti in modo tale che il cliente non sia solo una persona che deve tirare fuori i soldi per pagare i nostri prodotti, ma deve essere un nostro partner perché vuole crescere e migliorare e migliorare tutto quello che è un aspetto di protezione SD e non solo ovviamente. I clienti soddisfatti ne abbiamo tanti, nello specifico non è odioso. Lavoriamo con aziende che senza voler far nomi si occupano di proteggere la nostra nazione, quindi siamo anche orgogliosi di poter fornire materiali che diano sicurezza per la sicurezza nazionale. Grazie.